Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Noi restiamo in trepidante attesa di conoscere il futuro del Sondro Calcio, che ancora aspetta di avere una società, nuovo o vecchia che sia, un allenatore, meglio se fosse confermato, ma Nordi, e cosa più importante, 11 ragazzi da mandare in campo la domenica. In attesa del Sondro, il resto del calcio va avanti. Sono infatti ben 10 le società di Valtrina e Valchiavenna che hanno deciso di affrontare la stagione 2020-2021 partecipando anche alla Coppa Lombardia. Una manifestazione vista soprattutto come occasione per rodare squadra e condizione in ottica campionato. In prima categoria proveranno a fare più strada possibile il Berbenno, la Chiavennese, il Cosio, l'Olimpico Morbegno e la Val Malenco. Sono invece Ardenno Buglio, Bormiese, Dubino, Grosio e Prata, quelli di seconda. A queste si aggiunge l'altolario allenato dal morbennese Gilberto Del Nero. Infine, le date della stagione che Giocoforza dovrà tenere conto dei protocolli sanitari e dell'elvolversi autunnale della pandemia. La Serie D e tutti i campionati regionali partiranno il 27 settembre, la Coppa Italia il 20 settembre, dal 13 settembre la Coppa Lombardia. Tutte le squadre dei dilettanti, comprese quelle valtelinesi e Valchiavennasche, sono quindi già al lavoro per quella che sarà la stagione della ripartenza dopo il blocco imposto dal Covid.